Musica Creare un'agenzia dello sviluppo regionale partendo da sviluppo toscana, oggi società in house, rivedere il ruolo di Sici, sviluppo imprese centro Italia e diminuire il peso della regione nel pacchetto azionario di Fidi Toscana, trasformandone l'assetto societario con l'affidamento della maggioranza delle quote a un soggetto privato e cercando nuovi partner industriali. E' questo il riassetto delle società finanziarie di sviluppo della regione illustrato in aula nella comunicazione dell'assessore regionale all'economia Leonardo Marras. Un processo spiega che tiene conto delle novità anche normative intercorse, che garantisce il supporto alle imprese toscane e che non trascura l'aspetto occupazionale delle società coinvolte. Articolato il dibattito che ne segue in aula, il capogruppo del PD Vincenzo Ceccarelli spiega le ragioni che hanno portato a questo piano. Intanto occorre dire che Fidi Toscana è nato nel 1975 e anche nel rapporto che ha stilato Prometeia ci dice che ha svolto un ruolo positivo per l'economia toscana. Oggi però è cambiato il quadro normativo. Soprattutto a seguito della pandemia si sono rafforzati gli strumenti nazionali per quanto riguarda il sostegno al credito e l'innovazione delle imprese. Sono praticamente venute meno le garanzie pubbliche di carattere locale. E allora occorre ridefinire un ruolo per quanto riguarda gli strumenti di cui la Toscana ha bisogno per continuare a sostenere le imprese. Ecco perché la proposta che ci viene fatta dall'assessore Marras a nome della Giunta trova il nostro accordo per quanto riguarda la possibilità di avere un'agenzia integrata di sviluppo complessivo che esiste già in house. Ecco perché non andiamo a trasformare Fidi Toscana perché sviluppo Toscana è già in house, esiste già e con l'apporto di una parte del know-how di Fidi Toscana e di Sicci può rappresentare questa agenzia integrata che dia impulso e sostegno alle nostre imprese. Quale futuro immaginate per Fidi Toscana? Vorremmo che questo futuro sia disegnato attraverso la ricerca di uno o più partner nell'ambito del privato che possono indicare e aiutare la regione a definirlo. Allora però noi chiediamo delle garanzie per andare avanti. Innanzitutto chiediamo che venga tutelato il valore complessivo di Fidi Toscana, chiediamo che venga tutelata l'occupazione perché in Fidi Toscana ci sono delle professionalità molto importanti che hanno svolto un ruolo molto positivo fino ad oggi e che potranno e dovranno svolgerlo anche in futuro. Al termine del dibattito l'Aula approva la proposta di risoluzione sottoscritta dal PD e da Italia Viva. Che cosa chiedete? All'assessore che venga nuovamente in consiglio a riferirci a seguito dell'esito della manifestazione di interesse in maniera tale che potremo in quel caso a ragione veduta fare le nostre riflessioni e dare gli indirizzi finali per poter procedere a quello che sarà il futuro della strumentazione di cui la Toscana si dota per il sostegno alle imprese. Respinti invece gli atti della Lega che chiedevano di mantenere come prioritaria la tenuta occupazionale e di Fratelli d'Italia che proponeva di costituire una finanziaria regionale e pubblica. Questa marcia indietro della Giunta, dicono le forze di centro-destra, ha fatto perdere troppo tempo. Si punta su sviluppo toscana, un'operazione che noi riteniamo molto fragile perché ci sono poche certezze, ci sono pochi numeri, manca un piano industriale e noi soprattutto arriviamo in forte ritardo rispetto ad altre realtà regionali che già si sono dotate di strumenti per supportare il tessuto economico. Parlare oggi in un contesto estremamente complesso in cui è partito già il PNRR, in cui sostanzialmente dovevamo già aver approntato questi strumenti, ci pare francamente una certificazione del fallimento politico della Giunta Gianni. Si pagano scelte sbagliate dopo anni di cattiva gestione, dice Forza Italia. Noi sosteniamo alcune cose che abbiamo portato in Consiglio regionale. Il primo, abbiamo bisogno di una finanziaria regionale, abbiamo bisogno di una finanziaria che abbia dentro il 106 per sostenere e per fare garanzie alle imprese. abbiamo bisogno di una gestione fatta di competenza, basta i prestiti e gli aiuti agli amici degli amici. Si aiutano i progetti industriali, si aiutano le imprese del territorio, prevalentemente quelle che stanno in Regione Toscana per quanto ci riguarda, e si aiutano le imprese non quelle che sono destinate a chiudere, ma quelle che hanno una prospettiva, che hanno i livelli occupazionali. Troppe volte fin di Toscana ha aiutato imprese che dopo pochi mesi hanno chiuso, depaperando così il patrimonio industriale della Regione Toscana e perdendo posti di lavoro. Il terzo elemento che chiediamo è che la scelta venga fatta in tempi celeri, in tempi veloci, perché il tempo è un elemento essenziale per il sistema produttivo di questo Paese, cioè entro tre mesi. E il quarto elemento, ultimo ma non da ultimo, è il mantenimento dei livelli occupazionali, cioè la garanzia che quei 53 dipendenti di Fidi Toscana, che oggi sono delle professionalità acquisite per il nostro territorio, non debbano essere perse. Lega e Fratelli d'Italia ricordano come solo due anni fa il Presidente Gianni proponeva di potenziare Fidi. Sta tornando indietro rispetto a quello che era stato detto in campagna elettorale e messo nel programma di governo. Quindi si va verso la cessione delle quote di Fidi Toscana da parte della regione toscana. Si dovrebbe concentrare la maggior parte delle attività di sostegno alle imprese, investimenti, consolidamenti delle filiere, transizione ecologica e tecnologica in sviluppo toscana, così da farne una agenzia interna. La realtà è che si sta perdendo tempo e si continua a perdere tempo senza delineare una nuova mission per Fidi Toscana. Quindi il tempo perso ha un costo e questo costo lo pagano i toscani per l'inefficienza ancora una volta della sinistra. Abbiamo perso tempo quando è arrivato il Governatore Gianni perché in campagna elettorale aveva annunciato la volontà di fare di Fidi Toscana una società 100% pubblica e quindi fino ad oggi, da un anno a questa parte, abbiamo parlato di quello. Oggi scopriamo che la Giunta fa retromarcia, non si va più nella direzione del totalmente pubblico ma addirittura si va nella direzione del totalmente privato, cioè dello smantellamento di Fidi. Quindi abbiamo perso tantissimo tempo. I bilanci di Fidi, non detto da me ma detto dalla stessa società, in futuro saranno bilanci rossi, rossi, rossi ed ogni mese che passa quindi si bruceranno tantissimo, tantissimi soldi, tantissimo denaro pubblico e le operazioni che oggi sono state raccontate sono operazioni che se tutto va bene avranno un tempo di attesa di un anno e mezzo, di due anni. Nel frattempo ci sono centinaia di aziende toscane che vivono e che sopravvivono o che sono sopravvissute fino ad oggi grazie alle garanzie di Fidi Toscana che dovranno andare in questo periodo di transizione al rinnovo di queste garanzie e su queste la Giunta non ha chiaro quello che succederà. Oltre a pensare ovviamente alle 50 famiglie dei lavoratori che lavorano oggi in Fidi Toscana per i quali anche per loro non c'è certezza sul futuro. Più ci sono tante altre zone d'ombra. Oggi ci viene detto dalla Giunta che il Fidi Toscana vale 44 milioni di euro ma lo studio che ha elaborato il piano parla di un valore attuale di 74 milioni di euro quindi è già in preventiva una perdita di 30 milioni nei prossimi anni. La Regione stessa un anno fa acquistava quote cioè oggi si va verso la dismissione un anno fa acquistava quote per portare Fidi in house spendendo 3 milioni di euro cioè quindi tantissimi soldi tantissimo denaro pubblico che è stato sperperato e che nei prossimi due anni verrà bruciato. Le quote di Fidi saranno difficilmente appetibili secondo il Movimento 5 Stelle. Non si capisce per quale motivo un soggetto privato dovrebbe acquisire una società che la Regione Toscana dichiara non più strategica e ci domandiamo inoltre che fine faranno quelle piccole e medie imprese che finora si sono affidate appunto alle garanzie di Fidi Toscana. Questa operazione pone dei dubbi. Infatti non si è capito come mai la Regione Toscana ha creato due società praticamente uguali e adesso se ne accorge si vuole disfare di quella che è nata prima. Quindi un sospetto c'è ossia che cosa c'è dentro la pancia di Fidi Toscana è stata veramente risanata. Come detto al termine del dibattito il documento passa con il voto delle forze di maggioranza PD e Italia Viva. Quest'ultima sottolina come la strada intrapresa è la migliore visto il mutato assetto per aiutare l'economia toscana. Ma cittadini toscani, le imprese, i giovani non ci chiedono di controllare una banca o una finanziaria, ci chiedono di sostenere l'impresa, l'economia, di filtrare i bandi comunitari, di essere interlocutori con i bandi del PNRR, di favorire le start-up, di favorire l'economia e il rilancio di un settore produttivo che deve creare ricchezza. Solo creando ricchezza la si può distribuire. È fondamentale investire in un'agenzia regionale di sviluppo, potenziare questa agenzia, avvidarla a una governance che possa avere espressione della rappresentatività della Toscana, rilanciare le professionalità e soprattutto collocare nel mercato le nostre quote di Fidi Toscana per fare in modo che soggetti privati facciano il loro lavoro. Oggi con il fondo di garanzie centrali, con un ruolo diverso che sta giocando lo Stato sulle garanzie e con il lavoro che fanno i consorzi figli del mondo delle associazioni di categoria, la partita delle garanzie del credito è cambiata, il mercato è cambiato, a noi non ci chiede la legge, la politica non deve svolgere questo ruolo, noi dobbiamo giocare una partita differente. Quindi la nostra convinzione è quella di potenziare l'agenzia di sviluppo regionale, sostenere il mondo dell'impresa e così facendo possiamo avere, se abbiamo 20 milioni a disposizione, fare questi come dei volani moltiplicatori cercando di accompagnare la nascita delle imprese, il sostegno soprattutto del settore commerciale, artigianale o piccole e medie imprese che più di altri stanno faticando, mentre le grandi imprese magari si difendono in un contesto globale nonostante la difficoltà, le piccole e medie sono in oggettiva difficoltà e noi dobbiamo stare al loro fianco. I numeri sono difficili da quantificare, però possiamo ipotizzare che almeno gli italo-americani furono 850 mila. Emigranti italiani negli Stati Uniti e in Sud America che tornarono in Europa assieme agli alleati per combattere il nazifascismo nella seconda guerra mondiale. Una mostra ripercorre la storia di molti di loro, pagina forse poco conosciuta del secondo conflitto mondiale. Originariamente gli italiani all'estero avrebbero un sentimento quanto meno filofascista, se non da un punto di vista ideologico, da un punto di vista più prettamente sentimentale, perché spesso bistrattati nelle comunità ospiti vedevano in Mussolini una sorta di redentore dell'italianità. Però con la scoppia della guerra gli italiani all'estero si trovarono spesso nemici dell'Italia e quindi furono etichettati come potenziali quinte colonne. Ecco, da quel momento in poi scattò un sentimento di rivalza e si vuole dimostrare il proprio filoamericanismo in primo luogo, ma patriottismo a livello generale a sostegno dei paesi ospiti. All'inaugurazione anche la console generale degli Stati Uniti d'America in Toscana. Questa mostra ci ricorda del sacrificio, del contributo che ha fatto i soldati italoamericani, i partigiani italiani nei confronti del nazifascismo. Quello che sta succedendo in Ucraina, gli ucraini anche stanno dimostrando un coraggio simile. Apprezziamo, ha aggiunto a margine, il forte impegno dell'Italia nella gestione della crisi ucraina e anche su questo lavoreremo ancora insieme. L'attualità anche nelle parole del Presidente del Consiglio regionale. È una pagina di storia poco conosciuta che mi ha colpito tanto. Qualche mese fa, quando vennero a raccontarmi, a presentare questa mostra, fui così colpito che dissi facciamola subito. Ma mai mi sarei immaginato di vedere oggi qui questa mostra e in contemporanea è vedere le terribili immagini che arrivano dall'Ucraina. I genocidi, la violenza, la guerra che sta devastando una comunità e un popolo, quello ucraino. Questa mostra è un modo per dire grazie, grazie ai tanti uomini, ai tanti ragazzi che vennero a difendere la libertà della nostra terra. Erano figli di emigrati, soprattutto emigrati negli Stati Uniti o in Brasile. Credo che ricordarli oggi qui è un modo per dire grazie, ma anche per dire una cosa importante, che quello che è accaduto può accadere di nuovo e non bisogna mai voltarsi dall'altra parte, ma bisogna lavorare tutti insieme, ognuno per quello che può, perché in Ucraina torni la pace e scene come quelle che stiamo vedendo terminano velocemente.